Presentato a Senigallia il progetto Rete Multiregionale per la terapia integrativa, la consulenza e la reintegrazione sociale delle persone con diagnosi di tumore, sviluppato in partnership per 36 mesi con il patronato rumeno. Il progetto prevede un finanziamento di 4,8 milioni di euro da parte del Fondo Sociale Europeo. Saranno istituiti tre centri per la consulenza e la reintegrazione sociale delle persone con diagnosi di tumore a Bucaresta, Iashi e Clui. Sostegno e assistenza a 500 persone affette da neoplasia e a circa 1000 dei loro familiari. Il patronato della medicina integrativa ha riuscito a avere approvati due progetti grandi, uno per le persone con disabilità e l'altro per i malati di casa. Noi, in afara di questi progetti, siamo depredati con altri progetti noi, tutti in domenio sociale. Noi facciamo solo questi progetti, noi abbiamo anche altre cose sociali. Nostro pensiero è quello di aiutare i genti e di fare l'educazione, prevenzione. Comporti con omeni che avevano nevoie di questo aiutare. E per i specialisti come di comportare con questi malati. Noi siamo stati omeni con disabilità. Per i disabili e per i malati di cancro. Noi speriamo in una collaborazione perfetta con i partner italiani. E speriamo in viitori che noi facciamo anche altri progetti, tutti sociali. E noi abbiamo il pensiero di fare altri progetti sociali. Impreunà con i partneri questi, insieme con l'associazione che fanno queste cose in Italia. Non parliamo di quante cose fa il patronato, perché fa tanto. Oggi è un giorno felice, siamo qua per aprire questo, per l'apertura ufficiale di questo progetto qua ai nostri partner. Per altre cose vi aspettiamo noi.